Il calcio importante a Montecatini dopo il mini ritiro della Fiorentina nella città termale arriva il Flora Tallin, squadra del campionato di Serie A Estone che partecipa all'Europa League. I Baltici rimarranno in zona fino a lunedì, ma il manager Stefano Pucci, delegato FIFA, è riuscito a portare a Montecatini anche il Pisa neopromosso in Serie B. Qualche giorno di ritiro e allenamenti alla comunale Daniele Mariotti per i Neroazzurri, già ospiti a Montecatini nel mese di luglio. Il Pisa, appunto, c'è questo grande entusiasmo per la promozione in Serie B, poi ci sarà il Flora Tallin che appunto sarà l'avversario del Pisa Domenica. Montecatini avrebbe secondo me caratteristiche sia per le strutture alberghiere sia per il fatto di essere molto vicini agli aeroporti. Il problema è che ora per esempio il terreno di gioco è in ottime condizioni, secondo me hanno fatto veramente un buon lavoro, però bisognerebbe lavorarci poi costantemente, tutto l'anno avere un progetto.